Lo studio è tanta parte importante per conoscere mondi altri. Diceva un mistico italiano, Giovanni Vannucci, per amare bisogna conoscere, perché se non si conosce non si ama. Il secondo punto della mia esperienza è l'incontro. Ho incontrato nella mia vita molte chiese cristiane diverse, nelle loro terre, e ho incontrato tanti uomini e donne di fede cristiani appartenenti a chiese diverse. E il terzo punto è la partecipazione alla preghiera e alla liturgia, che è fondamentale per entrare un poco nello spirito, diciamo, delle diverse tradizioni orientali e occidentali. Partirò dal mio primo viaggio di carattere ecumenico a Istanbul nel 1972, in cui ho partecipato alla liturgia ortodossa nel patriarcato del Fanar, e il mio rapporto con la chiesa ortodossa di Costantinopoli è un'asse importante nelle relazioni con il mondo ortodosso. Il rapporto personale con il patriarca Bartolomeo, che ho conosciuto quando era giovane, prima che fosse patriarca. Ma poi c'è l'altra parte del mondo ortodosso, che è la Russia. e vorrei dire che ho conosciuto il mondo ortodosso russo quando ancora era sottoposto alla pressione e alla persecuzione sovietica. La chiesa russa è una chiesa di martiri, una chiesa che ha la sua storia segnata dal martirio. Si parla di 300 vescovi martiri dal 1917 e forse un milione tra fedeli, monache e monaci. La liturgia russa, pur essendo la stessa liturgia greca di Costantinopoli, ha tutto un suo spirito particolare. Ho conosciuto il patriarca Kirilla abbastanza bene, ho parlato parecchie volte con lui, sono stato a pranzo con lui, un patriarca che oggi è molto discusso, ma insisto sul fatto del rapporto personale. Conosco l'ortodossia romena, che è pure importante perché è una liturgia, è una chiesa, l'ortodossia romena, orientale, ortodossa, ma non slava. Perché come voi sapete i romeni fanno parte del mondo, diciamo, latino. Un altro filone di esperienza personale e di contatto ecumenico è il rapporto con le antiche chiese cristiane, quelle chiese che non hanno accettato il concilio di Calcedonia, che hanno vissuto fuori dall'impero bizantino. Ne citerò tre. Gli armeni. E la chiesa armenia è una chiesa di martiri perché nel 1915 ha vissuto il primo genocidio del Novecento. Sugli armeni e su questo genocidio ho scritto anche un libro che si chiama La strage dei cristiani, pubblicato dal Mulino. Gli armeni, anche nella musica della liturgia, portano il segno di questo grande dolore. I siriaci, una chiesa povera che anch'essa ha subito la persecuzione dei turchi del 1915. E poi ho conosciuto la grande chiesa etiopica, una chiesa sofferente, molto sofferente, nel regime comunista di Mengistu, ma una chiesa molto importante perché è il frutto di un'antichissima evangelizzazione dell'Africa. Mi manca di parlare del mondo evangelico, non parlerò dei miei rapporti e della mia conoscenza del mondo protestante francese e tedesco. Parlerò di un rapporto molto antico con i protestanti italiani, i valdesi. Il pastore Valdovinai ha sempre predicato a Sant'Egidio per anni, alla preghiera che la comunità di Sant'Egidio fa ogni giorno, prima nella chiesa di Sant'Egidio, poi nella chiesa di Santa Maria in Trastevere. Di fronte a questo quadro vi ho detto qual è stata la mia biografia e la mia conoscenza di questo mondo attraverso l'inverno, attraverso la mia esistenza, un'esistenza di impegno ecumenico che è cominciata prima dell'inizio degli anni Settanta e che continua ancora oggi perché io credo che non si può essere cristiani senza essere ecumenici. Non bisogna essere mai senza l'altro. Vorrei dire, e io parlerò di questo, e darò un titolo alla mia esposizione che si chiama Chiese, Sorelle, Popoli, Fratelli, ma prima voglio dire che i cristiani ben prima del dialogo ecumenico sono stati già uniti. Lo dice Giovanni Paolo II con una grande intuizione quando afferma nel martirio noi siamo già stati uniti. Nel martirio noi siamo già stati uniti. Nel martirio siamo uniti. Infatti nei gulag sovietici e nei lager nazisti nei luoghi della persecuzione si poteva dire io sono cattolico, io sono protestante, io sono ortodosso. Nel sangue dei martiri c'è già l'unità della Chiesa. Io ho studiato prima del 2000 il tema dei nuovi martiri e ho pubblicato questo libro Il secolo del martirio proprio perché il Novecento è stato il secolo del martirio, ma il martirio ha una valenza ecumenica. e noi a San Bartolomeo all'isola, che è una basilica sull'isola tiberina, l'isola nel fiume Tevere, noi abbiamo dedicato questa Chiesa di antica memoria apostolica, l'abbiamo dedicata ai nuovi martiri, cattolici, ortodossi e protestanti. E ci sono reliquie, resti, segni di tanti martiri che vengono depositati in questa Chiesa. Dal messale o dalla casula di Monsignor Romero ai martiri russi, ai martiri armeni e sotto questa Chiesa, in un antico sotterraneo, è proprio aperto un museo che riguarda i nuovi martiri. I nuovi martiri sono profeti dell'unità della Chiesa. Chiese sorelle e popoli fratelli Le Chiese, lo sapete meglio di me, si sono a lungo scomunicate. Noi abbiamo avuto Chiese nemiche e popoli nemici. Ma questa espressione Chiese sorelle e popoli fratelli è del patriarca ortodosso ecumenico di Costantinopoli, patriarca dal 1948 al 1972 ed è in un libro di dialogo con Olivier Clément, teologo ortodosso, un libro pubblicato in Italia dalla San Paolo con il titolo Umanesimo Spirituale. Atenagora intravede la globalizzazione, l'unificazione del mondo e nel 1968 afferma guai se i popoli un giorno accedessero all'unione fuori dalle strutture della Chiesa. Guai se i popoli si unificassero senza che le Chiese si unificassero. Abbiamo parlato di Atenagora in campo ortodosso, morto nel 1972 ma vorrei parlare di un'altra figura molto importante, di un altro padre dell'ecumenismo ed è Giovanni XXIII, un diplomatico vaticano che passa lunghi anni in Bulgaria e a Istanbul, a Costantinopoli, che diviene papa e che indice il concilio vaticano II concependolo anche come un evento ecumenico. al concilio vaticano II 62-65 partecipano i padri della Chiesa Cattolica ma sono presenti ed è un fatto che lo differenzia dagli altri concili anche gli osservatori delle Chiese ortodosse. secondo alcuni studiosi in un certo modo questi osservatori sono integrati nelle dinamiche conciliari. uno di essi l'ho conosciuto molto bene è il vescovo Zakha Iwas della Chiesa siriaca poi divenuto patriarca. Ma vorrei dire il concilio ha una valenza ecumenica e pacifica perché è la prima assemblea pan-europea che supera i confini della guerra fredda. E come voi sapete il concilio viene indetto da Giovanni XXIII e nel suo discorso parla di ricerca dell'unità il documento conciliare unitatis redintegratio sull'unità dei cristiani mostra l'ampiezza del compito ecumenico. Questo compito ecumenico care sorelle non riguarda solo gli specialisti. Purtroppo negli anni l'ecumenismo si è ridotto a un affare di specialisti. Non è giusto si è ridotto a teologi si è ridotto all'ufficio ecumenico delle diocesi o al di castero Vaticano che si incarica di questo tema. l'unitatis redintegratio stabilisce la cura di ristabilire l'unione riguarda tutta la Chiesa sia i fedeli che i pastori e tocca ognuno secondo le proprie possibilità tanto nella vita e tocca ognuno secondo le proprie possibilità nella vita cristiana di ogni giorno quanto negli studi teologici. Tale cura manifesta già in qualche modo il legame fraterno che esiste tra tutti i cristiani e conduce alla piena e perfetta unità. vorrei parlare allora della passione ecumenica negli anni sessanta cresce la passione ecumenica in un reticolo di incontri e di legami vi parlo vicino alla basilica di Santa Maria in Trastevere ricordo la passione e l'entusiasmo per la visita del patriarca di Costantinopoli cioè quando Paolo VI nel 64 va a Gerusalemme e incontra Atenagora al ritorno a Roma resta stupito dall'entusiasmo della gente la visita di Atenagora a Roma nel 68 è un fatto molto importante come l'incontro a Gerusalemme tra Paolo VI e Atenagora cioè l'ecumenismo esce dai circuiti ecclesiastici e diventa un segno di unità dei cristiani e del genere umano unità dei cristiani e del genere umano gli anni 60 e 70 sono percorsi da quelle tensioni unitive che Giorgio Lapira usava questa espressione tensioni unitive cioè l'unità del mondo il superamento della guerra fredda la pace l'unità dei cristiani il dialogo tra le religioni la cooperazione tra il sud e il nord del mondo l'unità del genere umano sono quelle tensioni che oggi sono in crisi oggi sono in crisi perché oggi siamo in un periodo di divisioni in cui si marcano le differenze si contrappongono le differenze degli uni contro gli altri Atenagora sognava di giungere come diceva lui al calice comune cioè alla comune celebrazione eucaristica il professore il professore non ha tolto il microfono mi sentite ora si no ma me l'avete tolto voi perché l'organizzazione ha riattivato l'audio allora motivi complessi sconsigliarono la comunione comune lo stesso calice tuttavia nel 78 prese avvio il dialogo teologico tra cattolici e ortodossi direi che gli anni 60 e gli anni 70 in parte sono stati una primavera ecumenica ma dopo l'idea dopo questa primavera ecumenica è venuto un inverno ecumenico almeno dalla fine degli anni 70 dagli anni 80 si parla di inverno ecumenico gli ecumenisti cattolici lamentavano la scarsa lungimiranza della curia romana però chi ha conosciuto l'età in cui le chiese erano nemiche si scomunicavano erano fredde deve riconoscere i grandi passi compiuti nel rispetto negli incontri nell'accordo inverno ecumenico ma la vera difficoltà è venuta dal 1989 quando è caduto il muro di Berlino e la storia si è messa in movimento la storia e la politica sono entrate con forza nelle questioni ecumeniche cito cito solo due esempi molto seri la questione della chiesa greco-cattolica che sta nell'Ucraina occidentale che nel 1946 era incorporata a forza nella chiesa russa ortodossa i greco-cattolici con la crisi dell'Unione Sovietica chiedono libertà e ricostruiscono la loro chiesa e questo genera un conflitto tra cattolici e russi ortodossi io credo che l'ortodossia russa è stata un'ortodossia di martiri ma martiri sono stati puri greco-cattolici io ho conosciuto Leopoli ho incontrato un vescovo della chiesa clandestina che si chiama Sterniuk un santuomo ma un'altra crisi è stata molto grave la fine della ex Yugoslavia con il conflitto croato-serbo infine i rapporti tra ortodossi si sono deteriorati nel 2016 a Creta il patriarca Bartolomeo era riuscito a realizzare il sogno del concilio panortodosso lo preparavano da mezzo secolo dal tempo di Atenagora e voleva essere in un qualche modo un concilio parallelo a quello cattolico tuttavia a quel concilio non vennero russi patriarcato di Antiochia bulgari e georgiani e quindi fu un concilio non panortodosso a seguire da quella crisi il patriarcato di Costantinopoli nel 2018 ha rotto ha riconosciuto la chiesa ortodossa ucraina separata da Mosca di modo che oggi in Ucraina ci sono due diverse chiese ortodosse una diciamo nella giurisdizione di Mosca e l'altra autocefala la risposta di Mosca è stata la rottura della comunione con Costantinopoli e allora oggi guardando per esempio la situazione ucraina non dovremmo dire chiese sorelle popoli fratelli ma governi nemici chiese ostili ma vorrei continuare dicendovi che il mondo globale ha spaventato i popoli è troppo grande i popoli cercano rifugio nella propria identità e si oppongono agli altri qui la radice di tante guerre di tanti conflitti e le chiese e le religioni sono chiamate a sacralizzare le mura e i confini avviene anche tra cattolici un mio carissimo amico l'arcivesco vortodosso d'Albania Anastasio che ha 92 anni ricostruttore della chiesa albanese dopo che in Albania tutte le religioni erano state distrutte Anastasio dice il contrario della pace non è la guerra ma l'egocentrismo è molto bello questo il contrario della pace non è la guerra ma l'egocentrismo l'egocentrismo personale l'egocentrismo nazionale l'egocentrismo ecclesiastico e allora qual è la situazione attuale la situazione attuale è una situazione molto molto difficile cioè ci troviamo in un inverno molto freddo se debbo se debbo sottolineare un limite dell'ecumenismo è questo ma prima del limite bevo un po' d'acqua se debbo sottolineare care sorelle un limite dell'ecumenismo ve lo dico subito ma questo è un parere mio personale l'ecumenismo si è concentrato prevalentemente sul dialogo teologico e ha tenuto poco conto del sentire dei popoli cioè è un limite illuministico nella convinzione che un accordo teologico dottrinale portasse all'unità ma a mio avviso non è tanto la teologia non è tanto la teologia che allontana i cristiani ma la storia il grande saggio patriarca Atenagora diceva il dialogo teologico deve nascere naturalmente all'interno del dialogo di amore all'interno del mistero della chiesa lungo il nostro lavoro dovremmo abbandonarci insieme allo spirito santo domandando l'intercessione dei nostri santi dei nostri padri e dei martiri comuni più ci si allontana dal concilio più il metodo dell'incontro diventa piuttosto diplomatico diventa piuttosto un negoziato assume l'aspetto dei metodi delle organizzazioni internazionali l'ecumenismo non si gioca solo tra chiese ma tra cristiani appartenenti a mondi e a civiltà differenti cioè i conflitti tra civiltà e popoli coinvolgono coinvolgono anche le chiese la memoria e il pregiudizio spesso si tramandano di generazione in generazione la storia del ventesimo secolo non è stata ecumenica cioè la storia globale non è stata ecumenica anche se abbiamo compiuto grandi passi in avanti nessuno si scomunica più ma non è stata una storia ecumenica il nostro non è un presente pacifico ma proietta antichi muri vecchie passioni nazionalistiche il mondo è connesso ma le chiese non sono unite io credo che l'ecumenismo non è uno spirito cosmopolita non è una moda non è la passione di alcuni specialisti ma l'unità dei cristiani è un comandamento centrale del Signore Gesù che siate una cosa sola perché il mondo creda e allora io vorrei chiedervi sorelle perché noi osserviamo tanti comandamenti ma non osserviamo questo comandamento dell'unità viene da pensare alle parole di Gesù che dice guai a voi scrivi o farisei ipocriti che pagate la decima della menta dell'aneto e del comino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge la giustizia la misericordia la fedeltà io credo che noi trasgrediamo il comandamento dell'unità ma siamo differenti ma dobbiamo vivere la differenza nell'unità e unità è amore preghiera comune liturgia insieme come guarire allora questo spirito di divisione io credo che la guarigione delle divisioni si fa cominciando subito fin da ora a camminare nella direzione dell'unità accadde nel Vangelo al funzionario reale che pregava per suo figlio malato Gesù gli disse va tuo figlio vive quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino bisogna camminare insieme sulla parola del Signore oggi l'ecumenismo nonostante sia volontà del Signore non è più una passione tanto condivisa ma in un certo senso c'è una grande conseguenza negativa della mancanza di unità quasi mi permetto di dire con una parola che metto tra virgolette una punizione di Dio ed è cioè il cristiano dovrebbe essere l'uomo e la donna dell'unità in realtà e la divisione invece dovrebbe fare scandalo ma la divisione è la norma tra i cristiani la divisione oggi legittima quel movimento neo evangelico e neo pentecostale quello che noi chiamiamo volgarmente le sette che conta ben più di mezzo miliardo di fedeli e che assume un carattere frammentario e competitivo quasi un mercato delle religioni se essere cristiano fosse essere nell'unità questo delegittimerebbe questo movimento frammentario e poi in questo tempo di guerra la mancanza di unità ripropone il tema della pace le divisioni tra cristiani non sono connesse a quelle tra popoli la ricerca dell'unità non è un'opportunità non è un'opzione ma è destino e volontà del Signore tuttavia oggi tra cristiani di varie confessioni ci parliamo da fratelli e tante volte i semi maturano in alcune occasioni ricordo il grande incontro interreligioso di preghiera della pace di Assisi voluto da Giovanni Paolo II nel 1986 nell'icona di Assisi ci sono intuizioni semplici ma basilari tre grandi idee che sono le idee del concilio il dialogo interreligioso il dialogo ecumenico e la pace pace dialogo interreligioso dialogo ecumenico nel vedere il Papa i patriarchi ortodossi i pastori protestanti i rabbini i leader musulmani buddisti induisti mi ricordo che una donna durante quella preghiera vedendoli mi disse quante poche differenze ci sono tra i cristiani quante poche differenze ci sono tra i cristiani è come in Medio Oriente dove i cristiani sono poveri di fronte all'Islam maggioritario quanto poco li divide la comunità di Sant'Egidio ha voluto camminare anno dopo anno nello spirito di Assisi convocando i leader religiosi per pregare uno accanto all'altro un incontro a Bucarest in Romania paese ortodosso fu molto importante per il disgelo tra gli ortodossi e i greco cattolici e aprì la strada alla visita di Giovanni Paolo II il popolo ha una sua funzione io ricordo durante la preghiera di Bucarest il popolo ortodosso che parlava di unità che gridava l'unità il popolo può essere attore dei riavvicinamenti ma anche degli allontanamenti diceva il patriarca ortodosso i teologi hanno la loro il patriarca quando nel 1999 Voitila andò in Voitila andò a Bucarest dopo la celebrazione della liturgia ortodossa a cui Voitila assistette il popolo gridava unitate 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 che vuol dire unità io credo che il mondo globale ci fa sentire con maggiore sofferenza la divisione tra i cristiani e non posso dimenticare in un tempo di fratture un momento altissimo che purtroppo è passato diciamo in silenzio ma che è stata la preghiera a Bari nel 2018 indetta da Papa Francesco che ha raccolto i primati cristiani per il Medio Oriente e ho avuto un ruolo nella ideazione nell'idea di Bari e ricordo la passione di Papa Francesco nell'incontrare i primati e soprattutto ricordo una discussione fra di loro intorno a un tavolo nella Basilica di San Nicola era un evento da primo millennio cristiano un grande segno di speranza che avrebbe dovuto essere ripreso sì e care sorelle mi avvio alla conclusione io credo che in questo mondo diviso parliamo del 2018 quindi di cinque anni fa del luglio 2018 io credo che in questo mondo diviso i cristiani debbano essere più uniti io credo che in questo mondo diviso i cristiani debbano essere più uniti ignazio di antiochia dice quando i cristiani si riuniscono insieme e pregano crollano i disegni di satana io credo che le chiese debbono essere sorelle come segno perché i popoli siano fratelli e debbono creare un clima una civiltà dell'unità e dell'amore una civiltà del vivere insieme un'espressione che io uso frequente ma anche una civiltà ecumenica come dice il patriarca Bartolomeo ma noi cosa possiamo fare questa è l'ultima domanda che io vi pongo cosa possiamo fare per l'unità dei cristiani cosa possiamo fare per la pace perché anche della pace voglio parlare un piccolo momento perché noi viviamo un periodo terribile cosa posso fare io laico cosa potete fare voi religiose innanzitutto possiamo pregare con una fiducia nella nostra preghiera perché come dice Carbart teologo protestante la preghiera cambia anche la volontà di Dio la preghiera cambia la storia noi dobbiamo avere fede che la nostra piccola preghiera cambia la storia la preghiera può sconfiggere il demone della guerra la preghiera può allontanare il demone della divisione tra cristiani io credo bisogna pregare con fede e insistenza e allora la storia sarà piena di sorprese e l'unità dei cristiani deve diventare una passione ma anche possiamo praticare l'amicizia perché noi dobbiamo costruire una tela di amicizie tra popoli cristiani a tutti i livelli vescovi fedeli monaci religiosi io penso per esempio che i monasteri abbiano un compito particolare nel coltivare i contatti ecumenici con altri monasteri e spesso per esempio nell'ortodossia i monasteri sono i luoghi in cui si rifiuta maggiormente l'ecumenismo non sempre in taluni casi dobbiamo pregare per l'unità dei cristiani e per la pace nella mia vita ed è una testimonianza personale con la comunità di Sant'Egidio spesa nel lavoro e nell'incontro ecumenico posso ho avuto tanti sogni ingenui di unità ma non dobbiamo mai rinunciare al sogno perché se non sogniamo non preghiamo se non sogniamo non lavoriamo ma anche sono riuscito a fare a compiere dei passi significativi sulla via dell'ecumenismo ho citato il caso di Bari potrei citare altre storie non lo dico per vantarmi ma vi dico che un laico che ognuno di noi nella preghiera nell'azione nella relazione può fare molto e quando parlo di comunità religiose di monasteri parlo anche di relazione con esperienze religiose lontane preghiera relazione e azione siamo d'inverno ma accendiamo il fuoco accendiamo i fuochi che riscaldino e disgelino i nostri rapporti in un mondo oggi troppo diviso grazie della vostra attenzione grazie professora Andrea è stato chiarissimo e molto incisivo la ringrazio tantissimo e mi pare molto fecondo molto interessante l'appello che ha fatto a noi religiose soprattutto ai monasteri alle contemplative e anche credo che sia una prospettiva di grande fecondità quello di avere intrecciato il tema dell'unità con quello della pace per cui l'ecumenismo si può dire è la via della pace perfetto sorella lei in poche parole ha detto tutto quello che ho detto io beh no ma mi piace molto questo perché appunto era un po' una nostra esigenza sentire di fronte agli scenari di guerra e di divisione che abbiamo sotto gli occhi e che ci fanno tanto preoccupare tanto soffrire allora il discorso della pace che va diciamo in perfetta intreccio si incastra con quello ecumenico con quello dell'unità questo credo che ci fa riflettere è un tempo lei diceva di inverno molto freddo ma questo per noi deve essere un tempo di scelte e allora il tempo c'è una chiamata del tempo la vocazione non è tanto qualcosa che ci parla dentro ma la vocazione è una chiamata dal di fuori le ministri degli infermi di San Camillo nascono dall'intuizione di San Camillo che vide i malati oggi noi vediamo l'inverno e accendiamo i fuochi questa è la vocazione la vocazione viene dalla storia potrebbe professore sollecitare qualche spinta qualche stimolo per le sorelle contemplative che magari in contesti piuttosto diciamo così non dico chiusi ma circoscritti anche dall'ambiente dal luogo il monastero è un luogo diciamo circondato da un muro cioè quindi un po' potrebbe sollecitare di più questo fuoco ecumenico nell'ambiente delle sorelle contemplative ma forse prima vorrei sentire una sorella contemplativa allora coraggio sorelle a voi la parola una su sor Maria Chiara mi sembra che abbia aperto il microfono se posso ringrazio e ho ricordato lei da dove viene sor Maria Chiara da Napoli Carmelitane Scalze di Napoli monastero dei Santi Giuseppe e Teresa di Napoli sono di Caserta comunque sono nel Carmelo di Napoli ho ricordato un testo scritto da lei che ho letto un po' di tempo fa non vorrei sbagliare era il titolo ma era il cristianesimo al tempo di Papa Francesco lei legge i bracci parlerò con l'abbadessa che legge questi libri lo sa questi libri poi più sono gli bracci più mi attirano non lo dica che qui se no ci sono le sorelle che si scandalizzano ma non fa niente il Signore mi difende va bene dunque in particolare due punti mi ha richiamato uno sottolineato da lei in quel libro e un altro dal Cardinale Casper e sono legati comunque sono uniti praticamente a un certo punto il Cardinale Casper dice che la concezione ecumenica affonda le sue radici nella concezione evangelica ovvero Papa Francesco al numero 117 dell'Evangelii Gaudium richiama San Tommaso e sottolinea che il Vangelo più che un insieme di leggi scritte quindi di verità come ha detto lei prima di verità teologica verità dottrinali da comunicare che comunque aiutano perché aprono alla verità e fanno prevedere le conseguenze pratiche anche di certa accoglienza di verità è lo Spirito Santo stesso quindi posto questo come fondamento è chiaro che la via per uno stile di vita per un modo di essere uomini che poi quella è la pace sarà la ricerca del dialogo sarà la comunicazione di doni più che di idee quindi arricchimento come ha detto lei personali quindi di relazioni sarà il camminare insieme e poi ecco quello che lei ha sottolineato nel libro il concetto di popolo su cui Papa Francesco insiste moltissimo che ha la caratteristica appunto del popolo di non avere confini quindi la lotta ad un'idea di una chiesa isolata chiusa monolitica come dire a un certo punto il Papa in un'intervista dice basta ridurci a discutere su non so l'uso di anticoncezionali matrimoni omosessuali insomma il cristianesimo e altro ecco perché l'ecumenismo unito alla pace perché l'unica soluzione per superare l'egoismo l'individualismo e come lei prima ha detto la differenza proprio tra l'individuo e la persona è questo l'esistenza dell'altro è quella suggerita da Gesù dal Vangelo e dallo Spirito Santo questa è una sottolineatura che mi ha piaciuto molto nonostante lei sia di caserta perché nessuno è perfetto ha detto cose molto giuste sì però quella ferrovia davanti alla reggia non la dovevate fare e ha detto cose molto giuste e a posto lei ha parlato di ambienti isolati no perché noi potremmo chiederci i monasteri benedettini i carmeli il mondo delle contemplative che cosa può fare nel grande campo dell'ecumenismo e nel grande campo della pace questa è una domanda importante perché le monache si sono ritirate dalla storia io credo di no io credo che se il monachesimo è ritiro dalla storia è una fuga io credo che il monachesimo sia un modo diverso di stare nella storia sia un modo diverso di stare nella storia attraverso attraverso la preghiera ma anche attraverso un certo tipo di relazione un certo tipo di relazione nei nostri vecchi paesi penso a una cittadina umbra da cui originaria la mia famiglia si diceva che se tu vuoi sapere bene tutto quello che è successo nel paese devi andare nel monastero di clausura lì ti diranno tutto quello che è successo nel paese è meglio dei carabinieri ora c'è una verità c'è una verità perché il silenzio favorisce l'ascolto la preghiera la relazione allora a mio modo di vedere ci sono due cose importanti ogni monastero dovrebbe pensare avere delle relazioni ecumeniche magari con monasteri di altre chiese o con personalità di altre chiese e anche per far capire il valore della vita contemplativa le relazioni personali sono tutto le relazioni personali costruiscono un mondo unito l'altro è la preghiera Giorgio Lapira il grande sindaco di Firenze scriveva una lettera a tutte le badesse la lettera alle claustrali in cui invitava tutti i monasteri a pregare anche per lui nei momenti nei passi più coraggiosi e rischiosi della sua vita penso non so se posso o se non mi chiedo presiede lì la madre non io posso sì sì un minuto sono breve lascio spazio voglio dire riallacciandomi a quello che ha detto secondo me è un concetto sbagliato di contemplazione che sia molto poco cristiano cioè molto più vicino al mio platonismo quindi alla separazione alla fuga dal mondo se fosse una contemplazione davvero cristiana quindi ispirata proprio al mistero dell'incarnazione della trinità cambierebbe molto anche perché se il contemplativo è l'intimo di Dio diciamo quello che dovrebbe vivere la vita di Dio più in profondità cioè Dio è per sua natura diffusivo ama l'uomo è aperto e abita la storia dovrebbe essere una conseguenza naturale voglio dire normale il suo discorso sul neoplatonismo e la concezione delle contemplative ci porta a un vecchio atteggiamento della Chiesa quando per esempio le contemplative pregavano l'ufficio in latino senza conoscere il latino e quando venivano i prelati a visitarvi e dicevano oh anime fortunate beate voi che potete stare in grande tranquillità mangiavano e andavano via allora perché non restavano cioè invece oggi abbiamo una visione ecclesiale della vita contemplativa grazie sua Maria Chiara grazie a niente grazie altre domande altre anche diciamo così feedback di fronte alla proposta così ricca che il professore ci ha fatto c'è suor Cristiana Cristiana no Cristiana non si sente apri Cristiana apri il microfono adesso ci siamo ecco me l'avevano disattivato allora mentre il professore parlava io riandavo alle nostre origini di monachesimo e mi riferivo soprattutto al padre di noi monaci monaci e poi anche monache Antonio Antonio l'eremita e mi riferisco alla vita che mi ha scritto Atanasio se noi andiamo alla vita di Antonio vediamo come Antonio non ha fatto uno furomundi ma si è inoltrato nel deserto per ascoltare la parola e vivere in un tempo di martirio pari al nostro direi e Antonio aveva dentro di sé un grande desiderio di essere martire il Signore non gliel'ha non gliel'ha concesso però ha dato a noi una un'indicazione profonda quella della vita monastica come il martirio della coscienza la testimonianza della fede quindi a me pare che se noi monache ci collochiamo su questa linea avendo dinanzi quella che è l'unità della Chiesa e questa necessità rispondiamo con la nostra chiamata quotidiana a quello che è un impulso che poi voi dovete concretare nelle relazioni mentre noi ci collochiamo sotto e siamo un po' un polmone che vi daria pulsiamo io sono d'accordo totalmente con lei suor cristiana in tutto aggiungerei però che anche un monastero ha un compito di relazione perché scolastica aveva relazioni anche Antonio anche Antonio usciva dall'eremo ecco stavo per dire la bellezza di Antonio era la capacità di essere remita ma quando le cose non andavano scendeva col bastone ad Alessandria rispondeva addirittura con l'imperatore stesso e dinanzi ai martiri e lui ha sfidato i giudici Antonio lo ha sfidato con una capacità e diciamo con una prepotenza di fede estrema quindi non vuol dire che noi siamo isolate in questo torre d'avorio siamo celate eccetera però l'accento principale cade su questo nel momento in cui la chiesa ci chiede di dare una testimonianza ecco ci siamo io sono molto d'accordo è un discorso molto vero io credo che la chiesa e la storia chiedono oggi alle monache e alle religiose di avere anche una capacità relazionale ma soprattutto come dice lei è la preghiera e il tessuto quotidiano allora che questo tessuto quotidiano contempli ovviamente a mio avviso delle relazioni è vero è autentico nel contempo non deve dissolversi nelle relazioni perché altrimenti perderemmo il nostro accento principale quindi è una questione di risposta e di equilibrio sì secondo me per molte comunità monastiche bisogna imparare a squilibrarsi perché si è troppo squilibrati dall'altra parte da una parte o dall'altra esatto ci troviamo sempre d'accordo bene mi sembra che solo le monache parlano qui eh no le abitatrici del silenzio parlano le altre sentiamo anche qualche altra suora ecco c'è il suo Maria del silenzio buonissimo buongiorno allora siamo suore e figlie della chiesa e proprio la ringrazio innanzitutto per la bellissimo apporto che ha dato e gli spunti e volevo proprio sottolineare l'aspetto della relazione quanto sia importante facendo riferimento a un'esperienza che ormai portiamo avanti da anni noi proprio in questa incontrare l'altro di una confessione diversa produce veramente frutti noi stiamo sperimentando con l'Alezio il sabato noi invitiamo almeno tre volte all'anno il pastore valdese Paolo Ricca ed è un'esperienza bellissima proprio che non è più soltanto un incontro sulla parola solamente ma diventa veramente amicizia amicizia condivisa e quindi penso che è vero che l'unico apporto che oggi possiamo dare certamente è la preghiera ma anche proprio l'incontro perché attraverso l'incontro conosciamo l'altro e tante barriere vengono meno e penso appunto a questa esperienza che ormai portiamo avanti veramente fa scoprire la gioia che il nostro centro è Gesù al di là di quelle che sono poi altre particolarità però ritrovarci ancora con il maestro è la via e grazie la ringrazio molto perché credo che queste relazioni e queste interazioni siano molto importanti peraltro mi piacerebbe dire che l'ecumenismo ci arricchisce l'incontro ci arricchisce perché ci fa incontrare con uomini e donne diciamo che hanno che vivono una tradizione spirituale diversa la figura di Paolo Ricca io prima ho parlato del rapporto con Valdovinai pastore protestante credo che Valdovinai era del 13 anch'io ho un ottimo meraviglioso rapporto con Paolo Ricca un pastore valdese e la sua predicazione è sempre una predicazione molto evangelica e ci richiama all'essenza del Vangelo e all'unità del messaggio evangelico stesso io credo che questo sia veramente molto importante e poi mi sembra che c'è un carisma femminile dell'ecumenismo cioè un carisma femminile che è anche l'attenzione alle persone appartenenti ad altre comunità religiose ad altre confessioni religiose noi maschi siamo sempre un po' di potere cioè andiamo all'unità unità delle idee unità istituzionali questa capacità di attenzione alla singola persona nei momenti belli e anche difficili della vita cioè c'è una maternità che le religiose possono esercitare nella relazione ecumenica siamo in un tempo di divisione guardiamo anche il nostro cattolicesimo la nostra chiesa cattolica quanto avrebbe bisogno di ecumenismo pensiamo all'irrigidimento dei tradizionalisti pensiamo ai discorsi pesanti fatti su papa francesco non dico che si possa anche avere una sensibilità in qualcosa ma io ho vissuto la contestazione del pontificato di paolo sesto ma era niente oggi nei confronti di papa francesco c'è un'attitudine diciamo anche molto dura in alcuni settori della chiesa totalmente negativa e questo è qualcosa che mi colpisce molto perché per noi cattolici non si fa non si fa unità senza la comunione con il papa con Fernanda sì allora se c'è qualche altra domanda se no se non sembro troppo ingorda io avrei due sottolineature da proporle professore Riccardi prima però vorrei lasciare lo spazio ad altre che magari non hanno ancora preso la parola c'è qualcuna che vuole intervenire allora intanto mi faccio avanti ancora io la prima osservazione ascoltando quello che lei che mi ha impressionato tantissimo quando all'inizio lei diceva descriveva le chiese che lei ha incontrato che ha avuto modo di conoscere e in tutte diceva il mondo ortodosso russo chiesa di martiri l'ortodossia rumena chiesa che ha sofferto persecuzioni e martirio gli armeni il genocidio del primo novecento i siriaci la chiesa etiopica anche i valdesi hanno sofferto persecuzioni ed emarginazione lotte forti allora mi chiedevo ma questo inserirsi in ogni chiesa la dimensione del martirio il martirio è un principio generativo di chiesa genera chiesa come dobbiamo capirlo che economia dobbiamo a quale economia dobbiamo aprirci per dare la giusta valenza al martirio la seconda osservazione era questa a un certo punto con molta determinazione lei ha detto non si può essere cristiani senza essere ecumenici e a me veniva davanti agli occhi la chiesa anche italiana questa poca chiesa quel poco di chiesa italiana che io conosco non c'è una pastorale che apra all'ecumenismo nelle nostre parocchie allora come come poterci dire cristiani se non si fa un cammino ecumenico non non c'è una cura per l'ecumenismo e questo lo direi anche ai monasteri sì è vero che il primo servizio del monastero è la preghiera però anche i monasteri sono chiamati ad agire e a scegliere non sono fuori dalla responsabilità di far crescere la chiesa di fare scelte di azione di testimonianza per questo per questa apertura ecumenica devo interloquire? sì ubidiamo a sor Fernanda non si può essere cristiani senza essere ecumenici perché secondo me non si può essere cristiani senza vivere la passione per l'unità noi siamo un tempo antiunitario perché siamo un tempo egocentrico siamo il tempo dell'io e non del noi dell'io e non della famiglia dell'io e non della comunità dell'io e non del partito siamo il tempo dell'io ma Gesù ci ha chiamati all'unità e all'amore e l'unità e l'amore si vive nella piccola comunità nel monastero nella parrocchia ma si vive in una dimensione più larga come aspirazione all'unità del genere umano io credo che questo è molto importante ma questo più che una pastorale Solfernanda perché la pastorale spesso non fa figli deve essere una passione dobbiamo far crescere e comunicare la passione per l'unità e la passione per l'unità farà figli e farà frutti di unità io credo che in questo tempo noi abbiamo la passione per la divisione e la contrapposizione passioni che nascono dalla paura uno chiude la porta uno traccia un confine tra me e gli altri per paura ma noi siamo come europei nel tempo più sicuro della storia dice Bauman perché avere paura perché avere paura io credo che dei religiosi che vivono una vita gratuita dove non vige la legge del comprare e del vendere anche se i religiosi a mio avviso vendono troppe case e spesso nemmeno a buon prezzo ma questa è un'altra osservazione e sprecano un patrimonio che è del popolo di Dio ma è un'altra ma questo è un problema di Suor Michela e io credo che proprio nelle case religiose e nei monasteri può rinascere una passione per l'unità l'altro discorso lei mi fa una domanda a cui la risposta è facilissima il martirio è un principio generativo della Chiesa beh lei lo sa il seme il sangue dei martiri è il seme dei cristiani è una risposta facile ma non è così facile perché nessun martire ha desiderato essere martire io studiando i martiri vedo come nella loro vita abbiano lottato per la vita abbiano lottato per non morire ma non hanno voluto pagare il prezzo di tradire i poveri i loro fedeli i loro amici e sono rimasti e hanno rischiato la vita come voi sapete meglio di me il modello del martire è Gesù io quando parlo della passione dico sempre Gesù è rimasto a Gerusalemme avrebbe potuto imboccare la via da Gerico e fuggire il martire è colui che resta pronto a pagare il prezzo della sua vita ma non vuole morire io credo che una Chiesa consapevole del martirio delle risorse che sono i martiri o quando vado nella Chiesa di San Bartolomeo a Roma ho il senso che lì ci sono delle energie spirituali che sono l'eredità dei martiri i martiri lasciano un testamento che forse dobbiamo ancora aprire io avrei tante altre domande ma non voglio essere quella che occupa lo spazio tra l'altro professore le devo fare le congratulazioni per la costruzione lì sotto dove ci sono le reliquie dei martiri è bellissima l'avete preparata in una maniera magnifica è un luogo da andare a visitare e lo dica le consorelle l'ho detto ecco lì se si va è veramente un pellegrinaggio da mettere in conto da mettere in calendario perché parla parla c'è una presa si avverte anche a fior di pelle una presenza una grazia del luogo una grazia loci sì sì è quello che io dicevo io durante diciamo il giovedì santo venerdì santo ero lì ho sentito veramente una grazia loci come ha detto lei delle risorse delle energie bene sorelle qualche altra domanda prima che il tempo scada posso 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 prego voglio una riflessione che mi è venuta adesso noi abbiamo parlato per le contemplative quasi di due poli noi la preghiera ma anche le relazioni ma io mi chiedo oppure noi non l'apostolato ma la preghiera io mi chiedo chi preghiamo che preghiera è cioè io chiedo è preghiera una preghiera che secondo me prima di tutto c'è tanta superbia in questa concezione perché non sono io sempre a portare una verità a fare apostolato come fosse la depositaria di qualcosa che ha solo da comunicare io penso che la preghiera è ricerca io come faccio a pregare ad incontrare un volto di Dio se non presumo che sia in tutti che è uno spirito che abita tutti i battezzati come faccio senza ricerca a trovare una verità e chi prego come si può parlare di una preghiera senza un confronto senza un dialogo senza una relazione preghiera ad un Dio trinitario perché questi due poli e anche chi è in missione come fa a parlare di vera missione senza preghiera io non riesco a separare ecco troppo le due cose un accento maggiore uno spazio maggiore un'importanza maggiore per carità le differenze sono però è davvero incontro con il Dio cristiano poi è preghiera quella devo dire qualcosa forse sì 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 professore dica no no io sono convinto che i monasteri si collochino nel grande tessuto della chiesa che è comunione e preghiera e allora c'è la necessità di una comunione e credo che dai monasteri come luogo di gratuità può sorgere uno slancio alla passione ecumenica che è fatta anche di relazioni oltre che di preghiera cioè tutto questo è un intreccio è un intreccio molto importante che arricchisce il nostro cristianesimo e questo ti spiega anche l'attrazione che tanti monasteri hanno sulle persone c'è qualcun'altra qualche altra domanda oppure anche qualche altra condivisione di qualsiasi tipo madri micaela madri micaela sì io intanto ringrazio ma non cioè sono rimasta molto colpita sul termine dal termine inverno inverno ecumenico inverno sì inverno come questa esperienza raggelante che come giustamente ha detto lei professore ha bisogno di accendere fuochi e i fuochi si accendono solo con la passione mi è sembrato molto molto importante quella passione che passa attraverso anzitutto l'esperienza la relazione che si nutre di conoscenza e si nutre anche di intimità penso alla preghiera come spazio di intimità e quindi cioè mi porto a casa da questo incontro sì la la drammaticità di questo inverno ma l'urgenza anche di accendere fuochi di custodire fuochi non di di adorare i ceneri ma cioè che poi davvero questo questo custodire una tradizione ecumenica ecclesiale che ci appartiene nel veramente nel DNA perché anche proprio come vita consacrata che è proprio spazio di relazioni e la ringrazio perché sento sento sulla mia pelle questo questo freddo ma nello stesso tempo anche nel cuore questo fuoco che dobbiamo tenere vivo e favorire che si trasmetta perché questo è l'esperienza di una chiesa di chiese sorelle di chiese che che testimoniano davvero la sorgente frinitaria della nostra vita la ringrazio davvero ho goduto di questo incontro grazie che sia che sia davvero un un'eredità da 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 investire custodire grazie madre no le sue parole sono molto giuste anche toccanti io penso che sentire il freddo dell'inverno ci richiama all'urgenza di vivere una vocazione ecumenica e di accendere come lei ha detto custodire fuochi e non adorare ceneri ecco e anche questo ecumenismo che va lontano oltre la città il paese la nazione dove siamo va lontano tende ponti gettati dalla preghiera e dalle relazioni io credo che quando ci sono gli strappi quando il tessuto si strappa i fili delle relazioni evitano che lo strappo sia davvero radicale e doloroso questo lo so per esperienza e credo sia molto molto vero io vi ringrazio tutte per il vostro ascolto così attento vi ringrazio per i vostri interventi e vi chiedo veramente non come un un fatto formale una preghiera perché il Signore mi aiuti e mi protegga grazie grazie professore auguri anche per domani lei riceverà il premio dalle paoline facciamo stare le paoline non ci sono le paoline qui vabbè no ci sono ci sono anche madre micaela è della famiglia paolina oddio stavo per parlarne male della giungla paolina è discepola le pie discepoli ma comunque della famiglia paolina volevo ricordare alle partecipanti il prossimo incontro l'ottavo ultimo il 15 giugno che sarà con Sabino Chialà sulla dimensione del monastero come luogo ecumenico quindi vi do appuntamento al 15 giugno speriamo che possiate partecipare e grazie per oggi della vostra presenza arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti